Se scende la passione per il wrestling, secondo me la cosa migliore da fare è smettere di guardarlo per un po'. Un metodo un attimino forte, quello che ti sto suggerendo. Poi, se dopo qualche mese non hai riavvertito le campane suonare e richiamarti, beh, allora vuol dire che quel percorso, magari per ora, deve interrompersi. Perché se non provi piacere nel guardarlo e diventa quasi un obbligo, un dovere o un'imposizione, non è sano continuare a farlo. E ne conosco tanti che sono arrivati lì e non ti nascondo che in passato anch'io ho rischiato di arrivare lì. Quando mi dicono, ma non guardi le altre federazioni, è perché devo mantenere la mia passione inalterata e l'indigestione di wrestling a un certo punto può portare al rigetto. Magari non è il tuo caso, magari tu sei solo deluso dalle storie, dei personaggi, da quello che oggi stanno proponendo in tv. Ci può stare. Però io affronterei la situazione proprio prendendo il toro per le corna. Torniamo a stare distanti per un po' e poi se non sento il richiamo, se la sirena non vi sbiglia al mio padiglione auricolare, è stato bello, ma per ora finisce qua. Poi non è detto che fra cinque anni o dieci o quindici quelle onde non tornino all'interno del tuo radar. Perché no? Anche qui, almeno nella mia vita, ci sono stati tanti tanti esempi di addi al wrestling che poi sono stati, si sono rivelati, soltanto degli arrivederci. Quindi il mio suggerimento è questo. Poi se qualcuno ne ha altri diversi, beh, direi che potete e dovete scriverli.